Da lunedì prossimo anche l'Istituto Zoprofilantico di Teramo effettuerà le analisi sul Covid-19. Il sistema sanitario è in difficoltà con i tamponi, per questo l'Istituto Teramano scende in campo in questo momento di emergenza. Fino ad ora i campioni dei prelievi che spettano alle quattro asle delle province abruzzesi vengono inviati al centro di riferimento regionale di Pescara. Da lunedì i campioni biologici prelevati con il tampone dal personale del reparto di malattie infettive del Mazzini di Teramo saranno analizzati dall'IZS e non si esclude che all'Istituto Teramano possano arrivare anche i campioni biologici da fuori regione. L'Istituto Zoprofilattico è dotato insieme allo Spallanzani di Roma di un laboratorio ad alto contenimento biologico dove vengono manipolati virus e batteri in assoluta sicurezza. Una nuova iniziativa che conferma l'estrema eccellenza dell'Istituto Zoprofilattico Sperimentale Caporale di Teramo. Con queste parole Pietro Quaresimale, capogruppo della Lega e consigliere regionale, commenta la notizia della disponibilità dell'IZS nell'eseguire le analisi sui tamponi dei soggetti sospettati di essere positivi al Covid-19. Questo istituto è una vera e propria perla nel settore della ricerca in campo sanitario animale, della sanità pubblica veterinaria e della tutela dell'ambiente. Continua il capogruppo Lega. Oggi, grazie alla dotazione di un laboratorio ad alto contenimento biologico trasportabile, secondo solo a quello dello Spallanzani di Roma, il centro Teramano può fare la differenza anche nella tutela della salute umana. Un ultimo applauso è doveroso farlo al direttore generale dell'IZS, Nicola D'Alterrio, e a tutti i dipendenti, ai quali è riconosciuta un'alta preparazione professionale che gli permetterà di affrontare con serenità questa nuova sfida. Conclude Quaresimale.